Eder Parisi, chi sono i suoi mariti e i suoi figli? Nel corso della sua vita, Eder Parisi ha avuto diversi matrimoni. In questi giorni in cui la showgirl è al centro di una polemica molto dura, in tanti si stanno chiedendo i dettagli della sua vita privata. Nella sua vita, Eder si è sposata due volte, con Giorgio Manenti dal 1993 al 1999, e la seconda volta con il suo attuale marito, Umberto Maria Anzolin. Giorgio Manenti è sempre stato un uomo molto riservato, ed infatti si sa poco di lui. Non si conosce esattamente la sua età né il suo luogo di nascita. Si sa però che al momento del primo incontro con Eder, era amministratore di una delle società, facente capo alla Holding e Meci. Tra i due c'è stato un colpo di fulmine e, subito dopo il fidanzamento, hanno deciso di sposarsi. Qualche anno dopo l'amore è finito ed è arrivata la separazione. Secondo le indiscrezioni, i due si lasciarono, per alcuni problemi giudiziari di lui. Nel 2013 è arrivato il matrimonio con Umberto Maria Anzolin, imprenditore che ha spostato la sua azienda a Hong Kong, dove ora Eder vive. Anche a Belve, la showgirl ha dichiarato che lui è l'uomo della sua vita, ed è felicissima di averlo incontrato a 45 anni. Gran parte della polemica sorta negli ultimi giorni è stata legata al rapporto, apparentemente assente, tra Eder e sua figlia Giacqueline. La Parisi però ha anche altri figli. La sua primogenita è Rebecca Jewel, nata nel 1994 nel corso del suo primo matrimonio, con Giorgio Manenti. Non è chiaro se si ha ancora in buoni rapporti con lei oppure no. La secondogenita invece è proprio Giacqueline Luna, nata da una relazione con Giovanni Di Giacomo nel 2000. Nel settembre 2018 Giacqueline si è trasferita a New York ma, nei periodi in cui rientra in Italia, sta con suo padre con cui ha un ottimo rapporto. Lo stesso vale per Rebecca, molto legata a Giorgio Manenti, come lei stessa ha spiegato in precedenza. Dal matrimonio con Umberto Maria, invece, sono nati Dylan ed Elisabeth. I due, gemelli, sono nati nel 2010 dopo che i coniugi si sono affidati alla fecondazione in vitro. I gemelli vivono insieme ad Eder Parisi e ad Umberto, il loro padre, a Hong Kong, dove ormai la famiglia risiede in pianta stabile. Voi che cosa ne pensate? Eravate al corrente di tutto questi dettagli sulla vita di Eder Parisi. E che idea avete sulle polemiche che ci sono state? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Ciao! Grazie a tutti.